Signore e signori eccoci qua, ritorno dall'operazione Acheron di Trento, torneo a quale siamo arrivati i secondi per allietare anche voi di questa nostra baldoria vi degneremo di un ottimo pezzo di Liga Bue cantato da, interpretato e recitato da Simone Dallevedo e dopo Matteo Campagnani la performance di Simone Riley Dallevedo Simon vai! Vai Enzo Adesso parte, non vi preoccupate signore e signori, adesso arriva Eccola qua, tutta per voi Eri bellissima, lasciatelo dire E anche stavolta so che non mi crederai Eri davanti a me, davanti agli occhi del bambino, gli occhi del bambino, quelli non li danno in Eri sanissima, ostrica e lampone, sulle mie dita c'è lì sempre solo te, ti lavio un attimo e poi ti nascondevi bene Io l'ho capito che sei sempre stata grande più di me Io l'ho capito che sei sempre più di me, ma adesso dimmi come è andata, come stanno Il viaggio di una vita amico te, io spero solo tutto bene, tutto come è Cos'è trovate volte piccole, stai bene con te, stai bene con te, stai bene con te Voglio inquadrare San Marco Facile piccola, con le tue paure Mi costringermi a nasconderti le mie Tu sai vedere il tuo sapore, spera godermi ad occupare tutte le mie fantasie Ma adesso dimmi come è andata, come è stato il viaggio di una vita lì con te Io spero solo tutto bene, tutto come è Cos'è trovate volte da piccole, stai bene lì con te, stai bene lì con te, stai bene lì Eccolo là in lontananza Eccolo, dentro lì in forte Eccolo, il nostro paradiso Ecco lì ragazzi, tutta la sua magnifica imponenza La casa di Freedom Fighter Ah che c'è scaracca Dio Pronto? Forte San Marco E con questa incollatura I Freedom Fighters Vi salutano Presidente, Vice Presidente, il Segretario e Simon Riley Tutti per voi Tutto il direttivo Tutto il direttivo al completo Simon Riley Vi aspettano all'operazione Acheron numero 2 E dal nostro secondo posto vi salutiamo Alla prossima Sì 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 ma infatti Ciao Ciao Ciao